Come sappiamo l'autostrada a Ventina, il tratto che passa da Pizzoturda, è stata chiusa nella corsia di destra perché il ponte seguente è pericolante. A seguito di una ispezione dei tecnici dell'autostrada è stato detto che non può essere riparato, può crollare, per cui sono stati piazzati questi famosi birilli, questo hanno detto le autostrade, che si sono poi, come ben sappiamo, estesi. Quindi i birilli non appaiono perché c'è l'incidente di Viviana Parisi, ma essendo una zona già soggetta a lavori, questi lavori si estendono per precauzione e vengono messi i birilli. Allora questi birilli chiaramente non verranno mai più tolti, quantomeno è questo che ci viene detto a noi, non verranno mai più tolti. Però sono apparsi il 5 agosto, la cosa era difficile da credere, però poteva anche essere che fosse questa la verità. Ripeto, la strana coincidenza di questi birilli che però iniziano a bloccare la strada il 5 agosto, l'autostrada il 5 agosto, e non vengono più tolti, perché si estende il pericolo anche in seguito all'incidente della Jeep. Eppure a me arriva la segnalazione, quattro giorni fa, che questi birilli siano stati tolti, incredibilmente dopo sei mesi siano stati tolti. Allora ovviamente era il caso di andare a controllare. Effettivamente, come noterete, sicuramente lo ricorderete, la deviazione per i lavori stradali iniziava in questo preciso punto. Come vedete, in questo preciso punto i birilli non ci sono più. Qui stiamo per arrivare a Pizzoturda, dove ci sono delle novità. Allora andiamole a vedere con attenzione. Non ci sono più i birilli. Stiamo per entrare, quindi adesso possiamo camminare in perfetta traiettoria, la traiettoria che ha fatto il veicolo di destra, ovvero il furgone. Andiamo a notare bene che sono più visibili anche le strisce lasciate a sinistra, come se qualcuno le avesse messe in evidenza, magari nel corso delle rilevazioni che ha fatto. Quindi vediamo bene tutto questo transito, ecco qui vedete a destra il solito segno bianco nel muro, effettuato nel tratto dove succede tutto, dove forse succede tutto, attenzione, sei mesi dopo i fatti. La situazione della galleria è pressoché la stessa dell'estate. Non è cambiato nulla, almeno lì dentro. Le tracce che, è chiaro, siano state conservate bene e volutamente, ovvero i birilli sono stati messi per evitare che i mezzi transitassero con frequenza sulla corsia di destra e andassero a cancellare queste tracce di frenata, che si sono, ripeto, mantenute in modo perfetto. Sembra la stessa situazione che riscontrai nel primo video in cui le scoprì, ovvero il video di fine agosto. Ripeto che quelle tracce di quella frenata non esistono in nessuna immagine televisiva. Attenzione invece a questo dettaglio. Molti pensano che Viviana cammina a piedi e subito esca a destra e non dalle cabine, ma vi faccio vedere che qui c'è una situazione di vegetazione molto fitta, c'è un muro. Vedete? Da qui lei non può uscire, se non con le ali, al solito. Non è proprio possibile. C'è il muro a destra e un muretto che porta i tubi, non so se sono tubi dell'acqua o, non ricordo, dell'elettricità. E comunque non è un punto da cui si può passare. Quindi lei è costretta a proseguire per altri otto metri fino ad arrivare a quelle piccole cabine e quello è il primo punto dove si può iniziare a camminare fuori dalla carreggiata e risalire il bosco. Vediamo che invece le tracce della sgommata fuori dalla galleria sono molto più consumate rispetto prima, quindi non si sono invece mantenute. Ma già l'avevo notato in precedenza. Tanto da avere anche l'idea che magari qualcuno avesse volutamente accelerato il processo di cancellazione. E qui ancora la cosa sconvolgente, perché come vedete in prossimità del ponte pericolante non ci sono più birilli, come se questo ponte improvvisamente abbia ridimensionato il suo pericolo. Il ponte non è accessibile, questo è il bello. Che non è che c'è stata una nuova ispezione che ha detto no, il ponte adesso è sicuro, quindi riapriamo. No, il ponte è rimasto pericolante, ma il pericolo, la ragione preventiva che portava a chiudere tutta questa corsia di destra con i birilli, come per far rallentare i mezzi in prossimità del ponte, non è più una cosa così impellente. Per cui c'è il libero transito, che non accadeva dal 5 agosto. Quindi cosa è successo? L'indagine sulla galleria si è chiusa, non è più un punto di interesse, le tracce adesso non servono più, si possono cancellare, ci sono delle certezze che hanno portato a far sì che lì ormai non serva più niente, nessuna ulteriore verifica, controllo. Tutto quello che si doveva sapere si è saputo sull'incidente, per cui non è più importante, o forse l'incidente è stato accertato a non essere un elemento cardine, per cui il mistero comunque non parte dalla galleria. Sono tante le domande possibili. Qui invece vediamo che la deviazione volta ad evitare il ponte è rimasta. Prima i birilli si congiungevano da Pizzoturda a questo punto, adesso non più. Questa è l'area di sosta che costeggia la stradina, che secondo le prime testimonianze Viviana avrebbe percorso, prime testimonianze. Qua parliamo di un'altra storia, perché adesso ipotizzeremo anche un'altra storia ancora, facendo un altro po' di strada. Quindi questo è il punto di raccordo, e da qui la deviazione è quella di prima. Quindi la galleria di Pizzoturda è guarita. Adesso invece siamo nella famosa galleria Santo Stefano, quindi questa è una delle due gallerie di Santo Stefano potenzialmente indicata dai testimoni, o quantomeno da chi telefona. Perché? Perché molti dicono c'è stato un incidente nella galleria di Santo Stefano, o nella galleria Santo Stefano, che è questa. Questa è la galleria sia di Santo Stefano che di Santo Stefano, perché è in prossimità del paese. Altri invece dicono c'è stato un incidente prima della galleria di Santo Stefano, o meglio dicono, prima dell'uscita di Santo Stefano. Allora a questo punto la cosa logica sarebbe andare a collocare questo incidente tra la galleria Santo Stefano e tra la galleria che è prima dell'uscita di Santo Stefano. Perché se voi dite c'è stato un incidente prima della galleria, dello svincolo di Santo Stefano, vuol dire che c'è una galleria e poi c'è lo svincolo. Quindi noi ora stiamo attraversando la galleria Santo Stefano. L'abbiamo già fatto forse una volta in precedenza. Questo è il famoso tratto che separa la galleria Santo Stefano dalla galleria prima dell'uscita di Santo Stefano. Quando voi dite c'è stato un incidente prima della galleria che esce a Santo Stefano, dite che l'incidente è stato in questo preciso punto che stiamo passando adesso. La cosa molto simpatica è che invece i lavori in corso presunti, perché anche qui non si è mai visto nessun lavoro, ed è quindi una chiusura che non si spiega. Comunque, qual è il succo del discorso? Qui i lavori iniziati, lo stesso giorno della chiusura della galleria di Pizzoturda, continuano, ma analizzando bene, e l'ho fatto oggi bene per la prima volta perché ero molto incuriosito da questa galleria, il tratto delineato dai birilli, cioè in questo caso quello di sinistra, si notano delle continue sgommate, tanto che il mio amico che era presente in macchina con me, senza che io dicessi niente, ha detto, ma qui cosa fanno? I patentini delle moto? O fanno gare? Perché sembravano, non so se avete presente quei test quando si prende il patentino della moto bisogna accelerare, poi subito frenare sgommando per fermarsi in un quadratino, tutti quei particolari test di guida. Diciamo che dal vivo la galleria dà quasi l'impressione che ci sia stato un inseguimento o qualcosa di simile. Non so se le immagini del cellulare riportano, ma ci sono delle continue sgommate, alcune molto nitide, alcune un po' meno nitide, poi alcune molto lunghe. Insomma, si ha quasi l'impressione che qualcuno giocasse al gatto e al topo, cioè ti lascio andare, ti riprendo, o qualcosa così. Nessuno dice che questo possa essere un gioco connesso con Viviana, però questa galleria ha questa particolarità e poi c'è ovviamente una corsia di sinistra che vi riporta nella carreggiata opposta e vi permetterebbe di tornarvene indietro con la modalità, ripeto, che si è vista usare da alcuni automobilisti in questa tratta in passato, una volta anche da un furgone identico a quello dell'incidente. Qui siamo invece allo svincolo di Santo Stefano. Vi avevo parlato in passato del fatto che qui c'è una piazza, praticamente potete fare un concerto anche qui, uno spiazzo, infatti a volte qualcuno che deve uscire a Santo Stefano sbaglia, va in quella piazzetta, dopodiché o fa retromarcia o non può più uscire, perché da lì chiaramente poi ci si ritrova in una uscita che è già sulla tratta apertusa. Invece andiamo a vedere un altro discorso molto interessante. Quindi, semaforo rosso, help, l'help spesso non risponde. In questo caso, tanto per cambiare, poi ho fatto qualche taglio, ho suonato un po' di volte, non ha risposto, ed è una cosa molto frequente in Sicilia, a un certo punto si alza la sbarra e ti fanno uscire. L'operatore non risponde. Altre volte non si alza nemmeno la sbarra e quindi si resta letteralmente imprigionati lì dentro. Per questo dico sempre che se uno ha fretta gli conviene far tutto tranne che chiamare l'operatore. L'operatore, insomma, è come quando voi chiamate un call center. Chissà quando e se vi rispondono. Dovete chiamare 5-6 volte. Invece, adesso, facciamo un attimo la rampa e questo che state vedendo davanti è il ponte che abbiamo visto prima, ovvero il ponte di raccordo fra la Galleria Santo Stefano che è alla vostra sinistra e questa che vediamo inquadrata in questo momento. La Galleria, invece, colonna quella dell'uscita è sulla destra. La domanda che mi faccio è visto che si dice che l'incidente possa essere accaduto in questo punto, visto che si dice che Viviana possa essere precipitata da un punto, visto che si dice che non sia precipitata dal traliccio. Chi ci dice che non sia caduta proprio da questo ponte?